Siamo contenti di farlo perché per noi è un evento fondamentale guardando gli obiettivi che si pone che sono la sensibilizzazione della popolazione per la prevenzione alla lotta contro il tumore al seno. Abbiamo già collaborato con la Fondazione Coman per la Race of the Cure e collaboriamo stavolta anche con i patrocini del Comune di Ghedi per offrire alle donne del nostro territorio un insieme di visite specialistiche e di esami radiologici completamente gratuiti. Due giornate di prevenzione, è questo quanto BCC Agro Bresciano ha organizzato dopo la Race for the Cure per continuare nella lotta contro il tumore al seno. Venerdì 23 presso l'auditorium di Ghedi dei medici specialisti della Breast Unit di Fondazione Poliambulanza hanno tenuto un incontro formativo dove i partecipanti hanno potuto conoscere più a fondo la tematica fugando gli eventuali dubbi. Abbiamo fatto questa serata Ghedi per parlare soprattutto di prevenzione. Il tumore della mammella è uno dei principali cancri legati alla prevenzione nel senso che se preso in tempo noi sappiamo che si può guarire anche del 100%. Vale a dire, se la diagnosi è precoce, se la diagnosi è anticipata, di tumore alla mammella si guarisce. Il tumore alla mammella è il primo posto sempre nelle statistiche di frequenza dei tumori, rappresenta il 28% dei tumori della sfera femminile. E come si fa per fare questa diagnosi precoce? Innanzitutto mantenere l'autopalpazione, cioè la palpazione del seno che è sempre una manovra importante e poi ovviamente aderire agli screening dell'ATS, cioè quando si viene chiamato aderire alla mammografia. E poi in ultimo, molto importanti ceppi della familiarità, chi ha una familiarità legata al cancro della mammella deve anticipare i controlli diagnostici che saranno ecomammografia e risonanza della mammella. La prevenzione passa anche dall'informazione, informazione che si può ricavare nelle famiglie di tutti noi. Bisogna conoscere e avere delle informazioni riguardo a tutti i casi di tumore della mammella o dell'ovaio presenti nella famiglia, l'età di insorgenza. E questo aiuta a costruire quello che per noi è molto importante, uno strumento fondamentale che è il pedigree, che è l'albero familiare, che ci permette di individuare quelle famiglie che sono una piccola percentuale ma molto rilevante comunque nella popolazione di soggetti a rischio che hanno diritto, a seguito di una consulenza genetica, ad effettuare un test genetico specifico per individuare eventuali mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 che ricorrono all'interno di una famiglia. I portatori sani di mutazioni BRCA1 e BRCA2 hanno diritto ad una esenzione in Regione Lombardia mediante la quale effettuare tutta una serie di test di screening per l'individuazione precoce del tumore della mammella e del tumore dell'ovaio, che ricordiamo ricorrere sia nei maschi che nelle femmine, quindi non soltanto nelle femmine ma anche nel sesso maschile. Mentre i soggetti affetti da tumore, che sono portatori di mutazioni BRCA1 e BRCA2, andranno incontro ad un follow-up dedicato e specifico che potranno ritrovare sicuramente nei centri in cui sono disponibili le breast unit dedicate alla patologia. Nella giornata di sabato 24, invece, un camper di unità mobile mammografica Comen è stato a disposizione, dalle 9 alle 17, per tutte le donne che volevano effettuare un esame mammografico-ecografico gratuito di prevenzione. Inoltre, era presente anche un desk informativo a disposizione del pubblico. Con questa giornata vogliamo portare ogni tanto la prevenzione al di fuori dell'ospedale per ricordare a tutti l'importanza di questo approccio, per ricordare che, nonostante chiaramente ci possono essere molti motivi, però è estremamente importante pensare a prendersi cura di sé.